Il nuovo anno in una regione che non può più aspettare. Il nuovo anno dei calabresi sono di tre femminucce i primi vaggiti del nuovo anno. A Cosenza un memorabile concertone con decine di migliaia di presenze in piazza. Piero Pelù ricorda Carlo Iannuzzi, mentre già oggi è iniziata la grande corsa ai saldi. Oliverio, gli alibi sono finiti, il governatore traccia un bilancio dell'attività svolta, il punto su quel che è stato fatto mentre la realtà dice che la Calabria è ancora ferma al palo. Troppo tempo speso a litigare con scura e per restare in equilibrio sui fili sottili e tesi che avvinghiano il PD. E i problemi intanto si incancreniscono. Anno nuovo, vecchi attentati. Nuovo pesante avvertimento all'amministrazione comunale di Gioiosa Ionica. Dopo gli spari alle auto del sindaco Salvatore Fuda, nella notte di San Silvestro incendiati i mezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti, da Reggio a Roma la politica reagisce con sdegno. Shaochi, perturirò in carcere. La lobbista calabrese indagata nell'inchiesta Vati di X2 con l'accusa di essere uno dei corvi della Santa Sede, si sfoga su Facebook e dice il Vaticano è una monarchia rassegnata ad entrare in cella già dopo Pasco per restarvi un anno e mezzo. Così non possiamo combattere situazione critica per la direzione distrettuale antimafia di Casanzaro, che in un vasto circondario non ha magistrati sufficienti per indagare sull'andrangheta e portare avanti i processi. La denuncia appello del procuratore vicario Giovanni Bombardieri. E benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di LACI, è il 2 gennaio 2016. Esaurito il tempo dei bilanci inizia quello della programmazione e delle previsioni. Che anno aspetta la nostra regione? Dal lavoro alla politica fino alla giustizia. Proviamo a sintetizzarlo in questo servizio. Che anno sarà il 2016? Bisestile, sì, è ricco di ponti. Sarà l'anno in cui i meteorologi che si avventurano nelle previsioni di lungo periodo annunciano ampie fasi di siccità. Sarà un grande anno di sport, quello che sfumati ricordi della grande regina di Cicciocozza Capitano potrebbero riportare la Calabria grazie al crotone in Serie A. Sarà un anno in cui al presidente Mario Oliverio e alla sua giunta dei prof, dopo un avvio di legislatura più che incerto, non saranno concessi ulteriori alibi. Sarà anche quello delle elezioni amministrative a Cosenza e della seconda visita calabrese di Papa Francesco. L'anno, il 2016, in cui dopo le promesse del premier Renzi e del suo fidato ministro dell'infrastruttura e Graziano del Rio, la Calabria attende risposte per ciò che attiene il porto di Gioia Tauro e i trasporti. L'anno delle lotte sindacali, quelle del precariato storico che si ritroverà, esauriti gli effetti delle cure palliative, nuovamente in piazza, quello delle nuove vertenze, la prima già annunciata, tanto per cambiare, riguarderà il mondo dei call center e si chiamerà Alma Viva. Sarà poi anche l'anno dei processi, quelli in cui i dopici cloni che hanno travolto la politica calabrese nel 2015, molti big della vecchia e della nuova guardia saranno presto chiamati in tribunale dei pubblici ministeri regini, che hanno istruito l'inchiesta rimborsopoli, sarà il 2016 un anno importante, l'anno dell'attesa svolta per una regione che non può più aspettare. Inizia il 2016 e finisce il tempo degli alibi per il governatore Mario Oliverio e per il suo governo regionale, ma che percorso è stato quello del presidente che ha tracciato e intervistato da un'agenzia di stampa, un bilancio dell'attività svolta, ascoltiamo. Un anno faticoso, l'aver scongiurato la perdita di fondi comunitari della programmazione 2007-2013 è il primo merito che il presidente della regione Mario Oliverio ascrive al suo governo. Parla l'Ital Press, Oliverio ricorda l'ultimo incontro con il commissario Cretu e gli apprezzamenti ricevuti, sottolinea gli obiettivi della programmazione 2014-2020 e poi i provvedimenti per il riordino di settori strategici dall'urbanistica al trasporto pubblico locale. Ma che percorso è stato quello del governatore Oliverio ad oltre un anno dall'insediamento? Claudicante, accidentato, incerto, gli aggettivi si sprecano e lasciano il tempo che trovano. La realtà invece racconta che mentre il tempo scorre e gli alibi si esauriscono, la Calabria ancora ferma al palo da tanti, troppi punti di vista. Troppe energie spese per litigare col commissario alla sanità Massimo Scura e per restare in equilibrio sul filo sottile che lega i rapporti tra le correnti interne al Partito Democratico. Pochi, pochissimi risultati tangibili, giusto quelli evidenziati all'Ital Press. Da gennaio lavoreremo in direzione dello sviluppo, del sostegno alle imprese e soprattutto del lavoro, degli obiettivi su cui impegnare tutte le risorse disponibili, dice Oliverio, che augura un buon 2016 a tutti i calabresi. Spero sia l'anno, continua il Presidente, che possa vedere un impegno corale a far prevalere il lato positivo della nostra terra e a costruire condizioni di crescita e di lavoro con l'obiettivo di recuperare la fiducia necessaria per investire sul futuro. Già la fiducia, anche il tempo della fiducia è finito. Adesso servono i fatti. È stato senza dubbio il concertone che si è svolto a Cosenza, l'evento più importante che si è celebrato in Calabria in occasione del Capodanno. Un evento nel corso del quale Piero Pelù ha inteso unirsi all'appello per sostenere un calabrese che adesso soffre in terra straniera. Sentite. Così si è brindato a Cosenza per dare il benvenuto al nuovo anno. Oltre 200.000 persone hanno riempito Piazza dei Bruzzi per il concerto di Piero Pelù che dopo la mezzanotte ha fatto scatenare il pubblico sulle note del rock. Canti e balli fino alle prime luci dell'alba. A precedere l'esibizione del cantante fiorentino e i vincitori di X Factor. Dal trio Lady Red fino a Dave Rountree, batterista dei Blair. Nonostante la piazza blindata dalle forze dell'ordine per l'allarme e terrorismo tutto è filato liscio tra la soddisfazione del sindaco Mario Chiuto che ha organizzato l'evento dell'anno. Una serata all'insegna del divertimento, senza però dimenticare un proprio concittadino. Carlo Iannuzzi, il ragazzo di Roccella Ionica ridotto in fin di vita a Buenos Aires lo scorso 27 novembre nel corso di una rapina e per le cui cure mediche costosissime è partita una raccolta di fondi. Si chiama El Puente per Carlo, una gara di solidarietà che non ha lasciato indifferente il leader dei Litfiba che dalla piazza gremita ha lanciato il suo appello. El Puente per Carlo, il ragazzo calabrese che è stato massacrato di botte a Buenos Aires dovremo aiutarlo tutti, noi cittadini e le istituzioni e questo anche per far capire alle mafie che noi ci siamo. Giovane programmatore originario della Locri, da ricoverata a Buenos Aires in gravi condizioni dopo, lo avete sentito, una brutale aggressione, ecco la storia di Carlo Iannuzzi ricostruita da Loredana Colloca, una storia sulla quale sin dalla prima edizione del TG del Nuovo Anno scegliamo di tenere accesi i riflettori. Il suo sogno americano Carlo Iannuzzi lo aveva realizzato in Argentina a decine di migliaia di chilometri dalla Calabria, da Roccella Ionica dove era nato e cresciuto il giovane aveva trovato un impiego come analista programmatore in una delle aziende del settore informatico più prestigiose del paese. A Buenos Aires viveva ormai da un anno quando il suo sogno un gruppo di ignoti malviventi hanno cercato di strapparglielo via. La notte tra il 26 e il 27 novembre, mentre rientra a casa dal lavoro, Carlo viene aggredito e rapinato abbandonato a terra, ferito, agonizzante e privo di coscienza Soccorso è portato all'ospedale civile della capitale argentina, il 27enne versa in condizioni gravissime I medici non sono in grado di intervenire, i familiari di Carlo optano per il trasferimento in una clinica privata all'ospitale italiano di Buenos Aires Lì il giovane viene sottoposto a un delicato intervento di craniotomia per favorire il drenaggio del sangue Seguiranno oltre 20 giorni di terapia intensiva, tempo che Carlo non ha mai passato da solo A Buenos Aires sono infatti arrivati la madre Mariolina e il fratello Elio e alcuni amici Altri invece, tantissimi, sono rimasti a Roccello dove hanno fondato il comitato Un Puente per Carlo Un'associazione attiva anche su Facebook che fa appello alla solidarietà con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la famiglia del giovane nel pagamento delle spese della clinica privata dove è ricoverato circa 50.000 euro una cifra destinata ad aumentare perché anche se fuori pericolo Carlo dovrà affrontare un lungo e difficile periodo di riabilitazione per riappropriarsi appieno delle sue facoltà psicomotorie Notte di San Silvestro e migliaia raccolti in piazza hanno gridato il nome di Carlo con la certezza di vederlo tornare sano e salvo per poter riprendere a vivere il suo sogno americano Sono tre femminucce venute alla luce a Reggio Calabria, Lamezia e Catanzaro le prime nate del 2016 Tiziana Bagnato ci racconta appunto i primi nati del nuovo anno Se sono gli stranieri a mantenere alta la crescita demografica del paese sono anche loro a mantenere i record delle prime nascite che hanno segnato il 2016 in Calabria a partire dalla piccola Gemma, nata a Reggio 20 minuti dopo la mezzanotte La bimba è figlia di mamma italiana e padre kenyota pesa 3,2 kg e lunga 51 cm ed è la secondo genita della coppia conosciutasi in una missione in Kenya Alle 2.30 Lamezia veniva il mondo Asia di madre filippina e papà italiano Un altro fiocco rosa anche a Catanzaro dove alle 4.10 nasceva Gaia Quasi 4 kg la bimba ha trovato ad attenderla mamma Elisabetta, papà Marco e il fratellino Gianfranco A Cosenza alle 8.20 veniva alla luce Anna Maria 3 kg seguita dopo pochi minuti da Daniel Osmash Vasili quasi 3 kg di peso Si tratta del secondo figlio di una coppia di origini rumene Nicolas e Michaela Osmash residenti a isola Caporizzuto da ormai 15 anni Ultima arrivata la piccola Irene Maria Pallavicini nata allo Iazzolino di Vibo Valencia alle 10.37 da mamma Cristina e papà Rocco In attesa dell'epifania per l'ultima tappa partono in Calabria i saldi ed in tempo di austerity inizia anche la corsa ad aggiudicarsi le migliori occasioni I capi d'abbimento sono in cima alle preferenze come da tradizione a seguire calzature, accessori e biancheria intima Si apriranno ufficialmente venerdì 5 gennaio i saldi in Calabria anche se sono già diversi da oggi gli esercizi commerciali che sotto la denominazione di vendite promozionali hanno iniziato a proporre alla clientela merce a prezzo ridotto Per Confcommercio quello che si appresta ad essere messo in moto in tutto il paese è un giro d'affari da 5,4 miliardi con una spesa a famiglia di 346 euro Sempre secondo le stime aumenteranno anche gli acquirenti la percentuale di chi insomma deciderà di approfittare dei saldi La gran parte di questi sono donne hanno più di 45 anni e vivono nelle grandi aree metropolitane e nelle regioni del mezzogiorno Tra le inversioni di tendenza, di importanza, data, la qualità dei prodotti rispetto al prezzo rimangono poi sempre attuali alcune dritte per evitare di cadere in truffe In particolare verificare, ovve possibile, il prezzo di ciò che interessa prima che venga messo in saldo per evitare che venga ritoccato il prezzo iniziale E poi ancora diffidare gli sconti pari o superiori al 60% e controllare che non si tratti di articoli appartenenti a stagioni precedenti Ricordare poi che il cambio è a discrezione del negoziante e quindi verificare accuratamente il prodotto prima di acquistarlo onde evitare poi situazioni incresciose Apriamo adesso l'ampia pagina della cronaca Un grave fatto affunestato il capodanno nella piana di Gioia Tauro dove un bidello 54enne è stato ucciso dal rogo che ha devastato la sua abitazione Ci spiega tutto in questo servizio Francesco Creazzo Andava spesso in quell'appartamento per coltivare la sua passione suonare la batteria Il primo giorno del 2016 però ha riservato a Giuseppino Bellantone un bidello di 55 anni una tragica morte L'uomo è deceduto nell'incendio che si è sviluppato nel piccolo appartamento in via Fiume a Taurianova accanto alla sua abitazione Ieri sera nella prima serata è stata la moglie a lanciare l'allarme avendo notato le fiamme che uscivano dalla casa dove il marito stava suonando fino a poco prima I vigili del fuoco di Polistena hanno impiegato poco più di un'ora a spegnere l'incendio trovando alla fine il corpo carbonizzato dell'uomo proprio nella stanza dove era solito suonare Prima di morire Bellantone avrebbe perso i sensi per via dei fumi di combustione Sulle cause dell'incendio ancora nessuna certezza anche se la pista più accreditata resta quella del cortocircuito È comunque esclusa l'ipotesi di incendio doloso anche se i vigili del fuoco procederanno oggi a una indagine più approfondita per accertare le cause della prima tragedia del 2016 sulla piana di Gioia Tauro Sono giorni di tensione quelli che sta vivendo Gioiosa Ionica il centro della Locride dopo le intimidazioni subite dal sindaco Salvatore Fuda ha registrato nella notte di San Silvestro un nuovo preoccupante attentato incendiario sullo sfondo la gestione del ciclo dei rifiuti Un'escalation di intimidazioni che ha funestato le feste nella Locride L'ultimo raid sul quale i militari del gruppo di Locri intravedono la matrice dell'Andrangheta si è consumato nella notte di San Silvestro a Gioiosa Ionica dove gli emissari della malavita hanno incendiato due mezzi pesanti del comune impegnati nella raccolta della spazzatura Un raid di stampo intimidatorio o ritorsivo a distanza di un paio di mesi da un episodio alquanto sinistro che adesso viene rivalutato dagli inquirenti ovvero l'incendio di un cassonetto dell'immondizia proprio davanti all'abitazione del sindaco Salvatore Fuda lo stesso primo cittadino che appena due settimane fa ha subito anche l'attentato alla sua automobile e a quella della sua compagna Tre episodi che potrebbero essere strettamente correlati sullo sfondo della gestione del ciclo dei rifiuti sulla vicenda è alta anche l'attenzione della politica Sostegno all'azione del primo cittadino è stato espresso dalla parlamentare Enza Bruno Bossio che investirà della questione alla commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosi Bindi Di atto di terrorismo contro il sindaco Fuda parla invece il capogruppo del PD in consiglio regionale Sebi Romeo per l'assessore regionale Federica Roccisano e l'intera gioiosa Ionica ad essere sotto assalto Amministratori locali, imprenditori e giornalisti sono i principali destinatari di intimidazioni e minacce in Calabria D'altro canto gli attentati nel corso degli ultimi mesi non hanno risparmiato neppure i sindacalisti Dal Cosentino al Regino passando per Catanzaro è un'escalation criminale quella che sta colpendo negli ultimi mesi i rappresentanti sindacali L'ultimo episodio si è verificato ieri mattina a Corigliano Calabro quando i gnoti hanno appiccato il fuoco all'auto di Giuseppe De Lorenzo responsabile della Fly CGL L'attentato incendiario è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini del caso Ferma la condanna del segretario generale della CGL del Pollino che auspica indagini a 360 gradi Pochi giorni prima un analogo episodio si era verificato a Reggio Calabria e precisamente a Sante Eufemia da Spromonte a finire nel mirino l'auto di un dipendente delle ferrovie della Calabria nonché sindacalista del Sul, Antonio Melara Tempestiva anche in quel caso la solidarietà della Segreteria regionale e nazionale del sindacato autonomo Non ultima l'intimidazione ai danni di Michela Avenoso segretaria generale della Filt CGL di Catanzaro a cui è stata incendiata l'auto Per la sindacalista si tratta della terza intimidazione nel giro di due mesi Gli altri due episodi sono avvenuti il 26 ottobre con il danneggiamento interno dell'auto ed il 30 novembre quando è stato frantumato un vetro dello stesso mezzo Un chiaro messaggio intimidatorio denunciato dal direttivo provinciale dell'organizzazione che nell'esprimere vicinanza la sindacalista si è impegnata a sostenere con più convinzione le vertenze che la Filt di Catanzaro sta conducendo soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale Tre intimidazioni che destano preoccupazione Tre gravi fatti che colpiscono uomini e donne impegnati a difendere gli interessi dei lavoratori Tutto ciò in una regione con il più alto tasso di disoccupazione e criminalità Andiamo avanti Obbligo di firma e niente più a resti domiciliari per Luigi Meduri La posizione dell'ex presidente e sottosegretario finito nell'inchiesta romana sulle tangenti ANAS è stata sgravata dalle dichiarazioni di Antonella Accrogliano Ovvero la da maniera principale indagata nell'indagine istruita dalla procura capitolina Il servizio di Michela Mancini Revocati i domiciliari all'ex presidente della regione ed ex sottosegretario delle infrastrutture Luigi Meduri arrestato lo scorso ottobre nell'ambito dell'inchiesta sul giro di tangenti per gli appalti dell'ANAS Per lui rimane comunque l'obbligo di firma Ad accogliere la richiesta del legale dell'ex sottosegretario è stato il GIP di Reggio Giulia Proto A sminuire la posizione di Meduri sarebbe stata la stessa Antonella Accrogliano La dama nera, considerata a capo del sistema di corruzione avrebbe soltanto millantato i suoi rapporti con il politico A spiegarlo è l'avvocato Antonio Managò È stato appurato che l'ANAS non ha mai assunto le due persone che sarebbero state a cuore di Meduri ha detto e dunque l'accusa di avere fatto pressioni per queste assunzioni si è rivelata una circostanza non vera Sui rapporti tra Meduri e la dama nera il legale si era già espresso Ad unirli sarebbe stata una vecchia amicizia, non certo gli affari L'unico favore di cui si parlava, aveva spiegato Managò era l'impiego del fratello di questa signora alla Regione Calabria che poi non c'è neppure stato Da Roma al Vaticano il passo è breve ed è proprio sui social network che si sfoga la lobbista calabrese Francesca Immacolata Chaochi indagata nell'inchiesta Vatilix 2 rassegnata a finire in carcere sin dal prossimo mese di aprile qui probabilmente potrebbe partorire Se provano che sono colpevole, devo andare in carcere, non ho scelta Francesca Immacolata Chaochi, indagata per sottrazione e diffusione di carte riservate nel processo Vatilix 2 non smette di proclamare la propria innocenza ma accetta il destino a cui probabilmente è segnata Ho fatto un giuramento di fedeltà a quello Stato e questo significa accettare le loro regole anche se sono sbagliate Si tratta di una monarchia, non è uno Stato liberale ha scritto su Facebook e proprio al social network la calabrese Chaochi affida il suo sfogo Andrò in carcere, credo ad aprile subito dopo Pasqua sconterò un anno e mezzo di pena Partorirò in carcere, non può andare diversamente poi annuncia, in carcere scriverò un libro sulla mia storia Ieri Chaochi, indagata insieme a Monsignor Lucio Vallejo Balda ai giornalisti, già Luigi Inuzzi ed Emiliano Fittipaldi e a Nicola Maio ha criticato le parole pronunciate dal pontefice durante la messa a San Pietro Sentire il Papa pronunciare la parola giustizia quando nello Stato che egli governa si sta celebrando un processo inumano contro una donna incinta ha ribadito Chaochi, mi farà brividire Nel frattempo Monsignor Balda, uscito dal carcere prima di Natale sta attendendo ai domiciliari la ripresa del processo ripresa prevista non prima della fine di febbraio Continuiamo a parlare di giustizia Anno nuovo, vecchi problemi per la procura di Catanzaro in particolare per la direzione distrattuale antimafia Il procuratore vicario Giovanni Bombardieri ha inteso lanciare un messaggio forte spiegando la gravità del deficit d'organico che l'ufficio si trova ad affrontare Non possiamo combattere l'andrangheta in queste condizioni dice ma ascoltiamolo in questa intervista Una procura che è sicuramente sottodimensionata per un fenomeno come quello dell'andrangheta che è un fenomeno nazionale è un fenomeno di criminalità a livello nazionale si dice che l'andrangheta è il fericolo numero uno in materia di criminalità organizzata noi a Catanzaro siamo in sei sostituti e due aggiunti che si occupano di indrangheta questo riteniamo che sia insoddisfacente perché al di là dell'impegno personale di ciascun magistrato che pure è continuo si potrebbe fare molto di più laddove sia la procura sia gli uffici giudiziari giudicanti penso all'ufficio GIP penso al tribunale sia le forze di polizia venissero rafforzate adeguatamente e adesso in breve gli altri fatti di cronaca della giornata scontro frontale fra due auto ieri sera intorno alle 23 nei pressi di un incrocio che porta alla frazione San Martino lungo la circonvallazione di Tauria Nova un'ambulanza del 118 con a bordo un medico, un infermiere e l'autista si è scontrata quasi frontalmente con un'altra auto nella quale viaggiavano altre tre persone il bilancio è stato di tre feriti nessuno dei quali in pericolo di vita immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale di Polistena gravissimo incidente ieri sera intorno alle 23.30 lungo Viale della Pace a Vibo Valencia un'auto di grossa cilindrata probabilmente complice l'asfalto reso viscito dalla pioggia è uscita fuori strada andando ad impattare violentemente contro il marciapiede il conducente un giovane di 22 anni di origini marocchine ha riportato ferite gravissime e verso ora in stato di coma a Riuniti di Reggio Calabria è deceduto durante la notte di San Silvestro Luca Nigro 33 anni originario di San Benedetto Ullano carabiniere scelto in servizio alla stazione di Briatico lo scorso 11 dicembre il giovane era rimasto vittima di un incidente stradale a colpirlo all'improvviso mentre si trovava alla guida della sua auto sarebbe stata un'ischemia cerebrale per 21 giorni è rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Vibo Valencia un bambino di 9 anni è stato trasportato stamane all'ospedale di Vibo Valencia a causa delle ferite provocategli da un petardo il fatto è avvenuto a San Calogero dove il ragazzino di origini romene ha raccolto un petardo inesploso che gli è poi scoppiato in mano provocando gli ustioni alla mano destra ferite al viso alle gambe e al torace dopo le prime cure dei sanitari del nosocomio del capoluogo calabrese il bambino è stato trasferito nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale di Messina nessun danno a cose o persone in conseguenza delle due scosse di terremoto registrate questa notte in Calabria una di magnitudo 2.9 ha avuto epicentro in mare a largo della provincia di Cosenza l'altra di magnitudo 2.3 è stata registrata sempre in mare ma nella provincia di Reggio Calabria è tutto grazie per aver preferito la nostra informazione adesso come sempre un breve riepilogo dei principali servizi del nostro TG buon proseguimento che anno sarà il 2016? Bisestine si è ricco di ponti sarà l'anno in cui i meteorologi che si avventurano nelle previsioni di lungo periodo annunciano ampie fasi di siccità sarà un grande anno di sport quello che sfuma ti ricordi della grande regina di Cicciocozza capitale se sono gli stranieri a mantenere alta la crescita demografica del paese sono anche loro a mantenere il record delle prime nascite che hanno segnato il 2016 in Calabria a partire dalla piccola Gemma nata a Reggio 20 minuti dopo la mezzanotte la bimba figlia di mamma italiana andava spesso in quell'appartamento per coltivare la sua passione suonare la batteria il primo giorno del 2016 però ha riservato a Giuseppino Bellantone un vidello di 55 anni una tragica morte se provano che sono colpevole devo andare in carcere non ho scelta Francesca Immacolata Ciaocchi indagata per sottrazione e diffusione di carte riservate nel processo Vatelix 2 non smette visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia per l'appare che fa notizia a Giuseppino Bellantone che fa notizia per l'appare per l'appare che fa notizia che fa notizia per l'appare